Non è il tempo che definisce l'importanza di un momento, ma l'intensità dell'attimo con il quale viene condiviso. Non è un attimo che definisce la realtà di un sentimento, ma l'importanza di un istante dove il tempo si ferma per diventare eterno. Non siamo noi che decidiamo quando siamo pronti ad amare, ma è l'amore che una notte che possa alla porta del nostro cuore entra senza far rumore, si anniglia nella parte più profonda per non farsi trovare, ma per farsi sentire. Si scuote per far vedere la sua presenza, ci sussurra che non possiamo starne senza, si esalta quando è condiviso, si lamenta in maniera dolente quando tutto svanisce e dell'amore non rimane più niente. e lui tremolante chiude la porta del nostro cuore, la chiude a tremondate per non farla riaprire, mette le catene per evitare di soffrire e va via dolente, sperando che prossimamente ritornerai in quel luogo incantato per riprendere vita nel castello del cuore, per vivere in eterno. Grazie per la visione!